Migliore integrazione con il servizio di trasporto pubblico, in particolare con i principali nodi metroferroviari, gratuità per gli abbonati annuali Metrebus e poi più sicurezza e decoro. Seguendo questi obiettivi, Roma Capitale ha ridisegnato la micromobilità dei servizi a noleggio di monopattini e biciclette elettriche. Il primo settembre è partito quello dei monopattini in sharing con gli operatori Dot, Lime e Bird. Dal primo novembre si è aggiunto poi lo sharing per le e-bike con Dot e Lime. Tra le novità anche una distribuzione più equa dei mezzi sul territorio con una presenza minima di 12 veicoli per chilometro quadrato e poi l'estensione dell'area operativa alle aree periferiche per rispondere nel miglior modo possibile alla domanda di mobilità dei cittadini. Le nuove regole della micromobilità in sharing sono su romamobilità.it